Posso dire una roba che farà in cazzo a qualcuno? Ma certo. Conosco anche tanta gente che in Italia si è stata in viaggio ed è tornata senza bisogno di pagare il riscatto. La smetta, anche lei è italiana. Non andateci sopra. A differenza di altre regioni, noi del papato autonomo del Veneto, siamo già in fine fase 4. Vabbè, non è autometro. Noi nel Veneto, Califato, Veneto, neanche ce l'abbiamo. Un metro come unità di misura, che abbiamo un litro, tutta più il flutto.